Più di un anno di lavoro, 12 eventi organizzati nelle piazze di altrettante città, 10 incontri con le scuole medie superiori della provincia di Bari e della BAT, 5 seminari per agricoltori dedicati alle pratiche culturali nei settori del cerealicolo, zootecnico, vitivinicolo e florovivaistico e un corso formativo per geologi. E' questo il bilancio del progetto Suolo e non solo finanziato dalla provincia di Bari. Una campagna di comunicazione ed educazione ambientale promossa dal Consorzio Universus, la Società Italiana di Geologia Ambientale, la CIA. Tra i materiali prodotti un va de mecum sulle buone pratiche in agricoltura e uno sugli aspetti tecnici di gestione del territorio. Nell'ambito del progetto abbiamo previsto proprio dei seminari formativi destinati al mondo dell'agricoltura e abbiamo previsto anche una sezione dedicata sul sito internet di progetto per tutte le imprese agricole e per l'adeguamento alle direttive acquessuolo con la sezione dedicata di Cianet che è il sito ufficiale della CIA Puglia, della Confederazione Italiana Agricoltori. Quanto agli aspetti geologici emerge la necessità di tenere alta l'informazione sulle criticità del nostro territorio. La nostra è una regione particolarmente vulnerabile sotto il profilo dei rischi idrogeologici con particolare riferimento alla fascia costiera dove i problemi sia legati all'erosione delle coste ma anche al problema della saliniziazione delle falde per intrusione marina è un problema che riguarda l'intera regione in particolar modo la provincia di Bari. Si fa troppo poco? Sicuramente bisognerebbe fare più informazione. Questo progetto solo non solo è stato un primo momento proprio per cercare di arrivare al vasto pubblico non soltanto agli operatori tecnici di agricoltura, ai tecnici professionisti ma anche alle scuole e al vasto pubblico in generale.